Ma i temi vedo che sono stati citati in maniera non proprio precisa. Diciamo che l'idea è partita dal sentiero di Francesco, anche il nome vuole essere significativo. Il sentiero è importante perché l'ha percorso Francesco, da lì è partito tutto. E l'ha percorso Francesco, non soltanto passando per le colline come si dice nel progetto, ma un percorso anche interiore. Portava dentro di sé un travaglio interiore. Noi proponiamo di indagare dentro il cuore di Francesco per cogliere questo processo di riconciliazione. Quindi riconciliazione con se stesso innanzitutto, perché il gesto che ha compiuto di rifiutare la paternità a quel tempo era un gesto indecente per la società del tempo. E quindi Francesco, lo sottolinea, non so se l'avete vista, Francesco percorre questo sentiero portando anche il travaglio di una riconciliazione con se stesso. Che poi è anche con Dio, che ha scelto come padre, con i fratelli, il terzo anno e il prossimo anno sono i fratelli, altra importante riconciliazione. Adesso stiamo cercando anche il testimone o i testimoni che ci possano raccontare la loro riconciliazione. Se qualcuno di voi conosce eventi di questo tipo potreste segnalarcelo. E poi la riconciliazione con la natura, cioè l'uomo nuovo che trova intorno a sé non dei nemici, ma delle creature che escono dalle mani di Dio e sono tutte belle. Quindi ecco questo è un po' il nostro progetto e il nostro invito a percorrerlo. insieme, saluto il mio ex sindaco Floracci, spero che anche quest'anno si cementerà con il percorso. Io lo farò come l'ho fatto gli altri anni, anche se non disdegno, non rifiuterò qualche aiutino, specialmente nei sentieri più difficili, perché io, anche se non gli dimostra, quest'anno faccio 70 anni e quindi è un po' impegnativo per me. Bene, allora vi aspetto sul sentiero. Grazie. Grazie. Grazie.